Sabato 25 e 26 febbraio 2012 la luna crescente ha formato un triangolo celeste con Venere e Giove. Questa disposizione visibile interamente intorno al mondo ha reso la luna, Venere e Giove gli oggetti più brillanti del cielo. Dovrebbe essere Venere, per il sumeri babilonese l'anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.